Signore e signori, Gilberto, Gimbo, Simoni! Gilberto, oggi ti arrivo a Roccarasso, tu la conosci questa tappa? Ti sei già stato qua? Credo che sì, ho fatto 15 giri di Italia e saranno arrivati almeno una volta, credo, qua in mezzo sicuramente sì. Va bene, quindi puntiamo su Gilberto Simoni oggi? Puntiamo sulle batterie. Puntiamo sulle batterie, va bene. C'è la bicicletta. Vai, dai, bocca al lupo, Gimbo. Grazie a tutti.